Mi dispiace, ma è necessario parlarne. Questo video sarebbe potuto durare 10 secondi, vi faccio vedere. È un coglione! Però in realtà l'argomento è ampio e c'è spazio per una serie di considerazioni. Perché faccio questo video? Che c'entro io? Oltre al fatto che seguendo Nasca rientro nella lista degli insultati, in questo momento secondo me è cruciale fare chiarezza. E chi la fa chiarezza? Io? No. Io voglio solo dare il mio contributo per far diventare questa brutta storia un qualcosa di costruttivo. Prima di tutto, alcuni hanno confuso la persona che ha ospitato la tristemente nota live Un blogger di nome Mr. Helmet con me, quindi onde evitare equivoci in futuro. Voglio dire chiaramente che questo canale si chiama The Talking Helmet The Talking Helmet E non ha nulla a che vedere con la pagina di Gianluigi Ragno, che è questo signore qui. C'era Biaggi? C'è un pello di mezzo. Adesso veniamo al succo del discorso. Il video è per tutti. Ma mi rivolgerò ai piloti che hanno fatto quei commenti riguardo Nasca, da Michel Fabrizio in giù. A me è sembrato che le antipatie che uno può avere nei confronti di una determinata persona in questo caso abbiano alterato il giudizio che uno dà al lavoro svolto da quella persona. Se Nasca vi piace, guardatelo. Se non vi piace, guardate qualcos'altro. Ma l'influenza che ha sul suo pubblico diventa una cosa indubbiamente positiva per lo sport. Molto positiva. Abbiamo uno sport poco accessibile, che a volte sembra stare in piedi per miracolo. Uno sport che funziona solo ai massimi livelli, sotto è praticamente un bagno di sangue. Di quelli che vorrebbero correre, solo una piccola percentuale riesce ad avvicinarsi ad una pista. E voi che fate? Mettete in croce l'unico disgraziato che con il lavoro e l'ingegno si è ritagliato un minuscolo spazio nel vostro esclusivissimo mondo. Facendo appassionare nel frattempo migliaia di persone. Idem per Salvadori, che non è stato risparmiato dagli insulti. Racconta la storia di una gara del CIV e il video viene visto 200.000 volte. Accidenti a te, Salvadori. Così facendo si rischia che qualche ragazzino dica Papà, voglio correre. O papà, portami a vedere le gare. E sai che disgrazia avere un bambino in più che si innamora delle corse? O sai che disgrazia avere, che ne so, 50 spettatori in più al CIV? Come hai osato, Salvadori. E poi vi sorprendete se le toppe degli sponsor si staccano dalle vostre tute e si attaccano a quelle di Salvadori o Nazca? Dainese dà le tute ad un amatore veloce come Nazca? E questa sarebbe una sorta di ingiustizia, secondo voi? Non lo è affatto. Il fatto che gli sponsor una volta cercavano i piloti più veloci o più vincenti non era perché questi piloti erano belli e pettinati. Era semplicemente il modo più economico ed efficace per un'azienda di mettere in mostra i loro prodotti davanti ad un pubblico potenzialmente interessato. Oggi il modo più efficace di farlo è prendere quello che ha più visibilità in quel determinato ambito. Nazca lo doppiate in pista, ma sui social la situazione è rovesciata. E il punto è proprio questo. Non è mai stata una questione di solo manico. Mai. Il fattore economico, commerciale, è sempre stato della partita. È cambiato solo il come una parte di quei soldi viene distribuita. Serviva il manico, servivano i soldi delle vostre famiglie per farvi correre quando eravate ancora bambini, e anche le giuste conoscenze, gli agganci giusti. È così da sempre. E voi siete parte di quei pochissimi fortunati che avevano bene o male tutte le carte in regola. Quindi piangete di cosa esattamente? Avete avuto le vostre occasioni, siatene felici e fieri. E se ne avete voglia, cambiate e rimettetevi in gioco. Nazca i soldi non li aveva e ha studiato un modo per aggirare il problema usando i mezzi giusti al momento giusto. Qual è il problema? Invece che insultarlo, chiamatelo. Fatevi dare qualche dritta piuttosto. Come lui se l'è fatta dare da voi. Tenere composta la moto è staccata, serve a fermarsi di più. Fino a quando non c'era Traction Control si faceva manualmente con il freno posteriore. Marquez, Rossi e pochi altri si possono permettere di fare la guerra dentro e fuori dalla pista. Voi no. Il motociclismo, tolte quelle poche realtà dove i soldi girano, fatica, come ha sempre faticato. Ecco perché voi, la guerra, potete permettervi di farla solo una volta abbassata la visiera. Fuori dalla pista serve unità. Serve fare gruppo. Partendo da voi del paddock fino ad arrivare al quindicenne squattrinato che legge motosprint e sogna, magari, di diventare come voi. L'accesso pratico alle corse rimane una cosa per pochi, visti i costi. Ma il sapere, la teoria, è per tutti. Il sapere oggi non ha confini, ve ne sarete accorti. E più si andrà avanti, più le informazioni gireranno velocemente. I fenomeni della MotoGP, gli innovatori della disciplina, sono sotto la lente di ingrandimento ogni volta che scendono in pista. Fotografi e riprese in slow motion ad ogni angolo. Tutto materiale che viene praticamente pubblicato in tempo reale, con la possibilità di essere studiato da chiunque. Un effetto a cascata immediato. Da Marquez, all'ultimo dei motociclisti, nel giro di pochissimo. Ovviamente non sto dicendo che tutte le informazioni siano utili a tutti, o applicabili da tutti. Sto solo dicendo che per voi, su certe cose, il diritto di esclusività è scaduto. E se pensate di sapere qualcosa in più degli altri, adesso è il momento di conoscere. condividerlo. È ora di abbandonare certi atteggiamenti di superiorità. Se avete a cuore lo sport, incluso il suo futuro, dovreste prendere l'esperienza che avete maturato e divulgarla, o quantomeno smetterla di sminuire quelli che lo stanno facendo. Oltretutto avete una cosa che non si compra e che vale oro. Cioè l'esperienza. Inventatevi un modo per usarla a vostro vantaggio. E un'altra cosa. Il motociclismo non vi appartiene. Neanche quello strettamente sportivo. Voi piloti siete indubbiamente i protagonisti. Ma siete parte di un insieme. Voi siete i manovali del motociclismo. Quelli che fanno il lavoro sporco. Lavoro che vi gratifica in quanto appassionati e che a volte arriva a darvi delle opportunità e in alcuni casi rari successo. Ma il motociclismo è fatto di tanta altra roba. Non ultima gente come me che vi segue, che paga biglietti per venirvi a vedere, e compra i caschi, le tute, i guanti e le moto. Perché indovinate un po' dove finisce parte di quei soldi. Finisce proprio dentro al nostro amato sport. E se un centesimo in più finisce dentro lo sport, lo sport cresce e automaticamente crescete anche voi. Chiudo parlando dei ragazzini che Polita sembrava schifare. Neanche mi addentro nella palude dei personaggi spazzatura che inquinano le teste dei giovanissimi sui social. Ma dico che nel mezzo di tutta quell'immondizia, uno come Nazca è una manna dal cielo. Se i vostri figli guardano Nazca, state contenti, festeggiate. Non poteva capitarvi di meglio. Inoltre sappiamo benissimo che quelli che non hanno la fortuna di poter andare in pista, vanno in strada. E molto spesso vanno in strada a cercare l'adrenalina. È un fenomeno che esiste da sempre. E allora vi dico che guardare un video di Nazca prima di andare per strada... Un consiglio per andare in strada divertendosi senza farsi male. Nella strada non è mai consigliabile. Può guardare qualsiasi cosa, passare una legge, avere il brecciolino per terra. E perdiamo la vita, che è la cosa più importante che abbiamo. È molto, molto meglio che guardare tanta altra roba. Forse avete puntato il dito contro le persone sbagliate. Perché Nazca e Salvadori, insieme a tanti altri, stanno divulgando la cultura motociclistica nel mondo. E ogni video che fanno, anche quello più sciocco, potrebbe essere la spinta che fa entrare una persona in più dentro il mondo delle moto. Quindi smettete di rimare contro e fate il vostro. Perché internet e i social, con tutti i lati negativi che possono avere, stanno forse regalando al motociclismo la possibilità di crescita che stavamo tutti aspettando. Grazie per la visione! Grazie per la visione!